Oscar Total Look ad Andria si è tenuto lo scorso weekend con l'obiettivo di promuovere le professioni di estetista e acconciatore attraverso la rappresentazione in passerella di opere artigianali realizzate dagli allievi dell'Accademia e non solo. Il galà aperto gratuitamente al pubblico è stato organizzato come un talent show che ha visto i partecipanti cimentarsi in varie categorie. Per il quindicesimo anno la scuola d'estetica e acconciatura Total Look organizza un gran galà, ma esattamente in che cosa consiste? Allora consiste nel fatto che i nostri ragazzi appartenenti a tutte e tre le sedi della Total Look, quindi di Andrea, Altamura e Biceglie, presentano dei lavori totalmente ideati da loro stessi in tutti questi mesi di Accademia, con l'aiuto ovviamente dei docenti. Quali sono le novità di quest'anno? La novità di quest'anno è fondamentalmente una, cioè quella del primo Oscar Total Look Dance. Cinque scuole di ballo gareggeranno insieme ai nostri ragazzi per un premio diverso. A proposito di scuola d'estetica e acconciatura, quali sono le opportunità che questo tipo di formazione offre ad un ragazzo? Allora, l'opportunità è quella di lavoro, è un'accademia di acconciatori, di estetisti, di make-up artist e quindi l'opportunità grandissima è proprio quella di lavorare in un mondo completamente nuovo. E questo è quello che dimostriamo. L'Oscar Total Look vuole proprio dimostrare questa cosa, cioè il fatto che i ragazzi possano avere e mettere in pratica una creatività non indifferente. Quanti sono attualmente gli iscritti e come partecipano poi alle varie lezioni gli studenti? Allora, gli iscritti sono quasi 300 in tutte e tre le sedi. È la nuovissima sede di Altamura che sta prendendo piede. Qui invece nell'Oscar Total Look abbiamo più o meno 120-150 iscritti che concorreranno tutti con diverse categorie. Quindi abbiamo la categoria del body painting, abbiamo la categoria della conciatura sera, conciatura fantasia, make-up artist. Chi è invece il guru di questa serata? Il guru di questa serata è il direttore Vincenzo Adoasio che è il titolare della scuola dell'Accademia Total Look ed è colui che ci dà la possibilità di partecipare a questa grandissima vetrina perché in realtà è una vetrina non solo per i ragazzi ma anche per tutti i docenti e per tutto lo staff che lavora per lui. Grazie per la visione